buongiorno benvenuti questa è la sedia stampa di oggi sabato primo settembre inizia settembre fra pochi giorni inizieremo a fare la tv populista su rete 4 ci saranno soltanto delle piazze urlanti ci saranno soltanto come possiamo dire tutti quelli cattivi che difendono salvini finalmente una rete 4 populista fa pochi giorni nel frattempo però vediamo che cosa succede nei giornali italiani che hanno questo atteggiamento da establishment e da persone serie da professori che ci devono spiegare come gira il mondo ecco io ho avuto un'impressione che oggi e sui giornali italiani si esibì si sono esibite le cheerleader avete presente quei film americani con cui ci sono quelle belle gnocche con i pompon bello perché proprio sano maschilismo americano tette di dimensioni pazzesche e con i costumini e con quei tutù che vanno lì prima delle partite dei giocatori di bay di football americano con queste specie di maschere c'è l'apoteosi delle cheerleader avete presente le cheerleader americane bene oggi le cheerleader le trovate sui giornali italiani e sono le cheerleader non dei giocatori di basket ma hanno anch'essi una maschera e sono delle agenzie di rating le cheerleader delle agenzie di rating sono i nostri giornalisti che godono come dei ricci l'avete visto che cosa succede ad avere un governo populista che arriva a fitch e vi downgrada che sfiga non ha fatto il downgrading italiano sapete che cosa ha fatto ha portato il rating ha mantenuto il rating ma ha messo l'outlook negativo cioè le prospettive negative per l'italia vedete io penso che l'idea di considerare come pensa questo governo populista e l'agenzia di rating un grande complotto secondo me è una minchiata non c'è nessun complotto le agenzie di rating fanno quel mestiere là ma l'idea di avere questi cheerleader che godono perché l'agenzia di rating bacchetta un governo italiano quello mi fa venire i nervi e mi ricordo appunto le cheerleader con i pompon sul finto sulla finta erba dei dei campi di football americano negli stati uniti ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede rating che non è cambiato fitch dice però che probabilmente possono arrivare le elezioni anticipate allora ragazzi mettiamoci d'accordo io capisco tutto questi analisti finanziari che escono dalla boconi dall'insea da come si chiamano dalla cambridge dalla mt ma figura ti chiesce dall'amaiti vuol fare soldi non vuole avere sono i più sfigati di tutti quelli che vanno a finire purtroppo per loro le agenzie di rating vorrebbero lavorare per l'iman e saltata per goldman sachs ecco quelli guadagnano vanno in questa agenzia di rating e che cosa fanno questi analisti giudicano l'italia dalla possibilità che si vada alle elezioni anticipate porca puttana che neanche verderami feltri sallusti minzolini e tito de marchis cioè quelli che vivono e campano per capire se si vada alle elezioni anticipate manco loro lo sanno però lo sanno gli analisti di fitch e quindi in funzione di un'ipotesi di elezioni anticipate che bisignani dice ci saranno bene loro dicono che l'outlook è negativo io lo trovo straordinario e no ragazzi le agenzie di rating possono nello scritto oggi sul giornale c'è fanno un anno loro mestiere hanno fanno loro mestiere io rispetto i mestieri di tutti il punto fondamentale che rispetto meno le cheerleader che godono di chi dice che l'italia fa schifo o che si avvia a fare schifo e quindi c'è una serie di come possiamo dire giornalisti cheerleader europeisti che appena sentono che fitch o gli altri ci stanno downgradato sono lì a godere come dei ricci leggo oggi ferdinario giuliano che lavorava financial times è stato preso il grande acquisto dell'economia di repubblica e che cosa mi scrive ferdinario giuliano che forse forse lavora un po troppo sugli analisti e va un po meno al bar ecco magari se un giornalista andasse al bar se si prendesse un cappuccino se prendesse la metropolitana se si affittasse un elicottero facesse le cose normali che fanno i giornalisti si renderebbe conto di che cosa scrive oggi si affittasse un elicottero ovviamente privato non intendo uno di quelli pubblici cioè uno di quelli che costano 5 6 mila euro a ora di viaggio ecco se facesse queste operazioni giuliano non scriverebbe che questo governo ha fatto un decreto di maio che sarebbe il decreto di dignità che apporta qualche marginale modifica al funzionamento del mercato del lavoro come qualche marginale modifica cosa di più licenziare non può fare più contratti a tempo determinato perché è chiaro che non li puoi fare più perché le causali non ti impediscono di farlo cioè rende più ingessato il nostro mercato del lavoro qualche marginale modifica sembra maria antonietta anche perché per giuliano basterebbe leggere gli altri giornali o anche il suo baserebbe leggere sulla stampa a titolo della stampa di oggi noi imprenditori veneti per la prima volta rischiamo di andare in piazza contro questo decreto del lavoro che ci danneggia chiaro ci danneggia complicato bastava sentire quello che dice la gente invece di stare lì negli uffici studi lì a londra se dire cosa avviene in italia lezione anticipata che poi a leggere i giornali che ti fanno comodo cioè confermare i propri pregiudizi attraverso la lettura di quelli che le poveri che la pensano come voi e questo sostengono essere il difetto di internet cioè le eco chambers dove tutti noi sentiamo solo quello che vogliamo per i giornalisti vale uguale vuoi mazzolare l'italia ti arriva l'agenzia di rating ti dicono che il decreto di dignità prima fa male poi non fa male è straordinario come è tutto quanto è sul decreto di lavoro aspetterei a parlare non c'è poco da aspettare a parlare oggi su tutti quanti i giornali cari amici ti spiegano che il mercato del lavoro italiano mi sembra che lo scrive bene sergio luciano sul libero come si sta contraddistinguendo purtroppo meno o per fortuna perché cambiato il lavoro meno lavori a tempo indeterminato permanenti più lavori flessibili che vuol dire tempi determinati e vuol dire part time questo è il mercato del lavoro del futuro vi piaccia o non vi piaccia questo è quello che avverrà se pensate ancora di avere la fabbrica ford come la pensano quelli che fanno il decreto di maio vi sbagliate di grosso perché non è più così ma andiamo avanti sulle altre giornate sulle altre minchiate della giornata perché poi uno pensa che le cheerleader esistono soltanto in italia esistono in europa quelle in europa bevono se fanno una la froig la mattina altro che coca cola bevete un po di diet coke così non ingrassate anzi zero perché la diet non mi piace prendete un po di queste bibite gasate delle multinazionali invece che la froiga perché se juncker presidente della commissione ue ha deciso che di lavorare su l'ora legale e l'ora solare di cui io non mi occupo non me ne fotte nulla anche perché non riesco mai a capire che vuol dire solare un'ora di più un'ora di meno min casino ma una cosa l'ho capita ferrarella oggi la spiega sul corriere della sera questi hanno fatto un sondaggio che è stato fatto da 30 mila italiani è stato fatto da 3 milioni di tedeschi ed è in totale di 4 milioni di cittadini europei su 500 milioni per decidere di una cosa così importante come ora legale e ora solare perché ad risvolti economici aveva capito oggi mi sembra lo dicessero tutti i giornali dal 1700 che si è capito il risparmio che potevamo fare nell'utilizzo delle candele anticipando posticipando non mi fate incasinare il punto fondamentale è che fai un sondaggio 5 milioni 4 milioni di europei ti rispondono e dici l'europa vuole sapete che cosa mi ricorda juncker mi ricorda la piattaforma russo di casaleggio dove fai le primarie le parlamentarie le le cazzarie con una piccola partecipazione quella piccola partecipazione vale per il tutto allora questa è secondo juncker che vuole fare l'anti populista l'anti cinque stelle l'anti movimenti che si basano sulla rete beh lui fa un cazzo di sondaggino 4 milioni e mezzo di persone 30 mila italiani e sulla base di quel sondaggino cosa dice la gente vuole che non ci sia più ora solare ora legale ragazzi e poi ve la prendete contro i sovranisti contro i cinque stelle ma di che cosa stiamo parlando caro porro della disestrata palermo no non parlo in questo momento però insomma ne ho parlato a lungo nel passato lo farò comunque ora il legale è l'apertura del tempo che si diverte su quest'ultima minchiata dell'europa mi scuso col mio amico scamarcio che mi ha scritto una un sms l'altro giorno non rivelo nulla di segreto e non sto svelando nulla di grave non faccio come asi argento e la sua amica perché dice nico ma non di cavolo non dire minchiate quelle andrese come me guarda che abbiamo un sacco di gente un sacco di star internazionali a venezia oggi in tutti i giornali in effetti parlano di lady gaga su venezia su festa di venezia che per me resta una cagata pazzesca però un po mi sono sbagliato perché da tutto il mondo stanno effettivamente venendo a venezia meglio venezia di canne bene le accuse a salvini beh le accuse a salvini sono fantastiche perché oggi la cosa che mi diverte è che qui si stanno pure a litigare sulla competenza territoriale perché in realtà salvini avrebbe dato gli ordini con il facebook con le twitter fatto a roma e con delle email partite da roma è indagato da una procura di agrigento mentre le cose avvenivano al porto di catania già perché agrigento deve lavorarci io che sono molto poco legato a queste insomma sofisticate questioni di legulei una cosa però dico e la dico insieme a salvini ragazzi ma vi sembra normale che noi abbiamo un procuratore che si occupa di salvini e vuole dargli 30 anni di carcere con cinque diversi reati sequestro di persone per ostaggiare l'unione europea sequestro di persone per l'altra ragazzi stiamo veramente parlando della follia follia non voglio mettere non voglio farla semplice lì non c'è ancora un indagato sul ponte non voglio non voglio farla semplice ma voglio dire mi sembra semplicemente sbagliato quello che sta avvenendo è una roba surreale surreale sul fronte delle opposazioni voglio dire se diciamo abbiamo i giornali con le cheerleader sul fronte dell'opposizione i ragazzi centrodestra centrosinistra segno della croce all'inverso dovete fare la ruota e oggi insomma sono di buon umore perché veramente è una roba pazzesca perché cosa succede il colline della sera l'altro giorno dice che il centrodestra vorrebbe fare vorrebbe stare unito che è una di quelle grandi colossali fake news che dal 94 si cerca di verificare ma che non si verifica mai per il semplice motivo che il centrodestra è fatto da un patchwork di persone ci vuoi veramente mettere totti con la meloni e con salvini e peggio di totti dal punto di vista diciamo del legame vedete tagliani salvini e meloni insieme bai insomma la vedo molto difficile così come era difficile mettere insieme berlusconi bossi e fini però detto questo la smentita è ufficiale perché la dice chiaramente salvini che ieri era incita da qualche parte con la sua fidanzata dice ma che unione di centrodestra semmai quello che i giornali oggi dicono anche se sono due versioni contrastanti quelli di labbate su quelle della sera dice non c'è nessun passaggio di dirigenti di forza italia la lega e quello mi sembra della repubblica che dice c'è un botto di gente soprattutto in lombardia pronta ad andare con la lega da forza italia sulla questione politica poi c'è l'altra parte c'è quella di sinistra in cui tutti i renziani ce l'hanno con zingaretti perché ha detto zingaretti da questo punto di vista io lo trovo orrendo ma ha un suo significato e c'è quello di dire la sinistra deve parlare con movimento 5 stelle perché effettivamente la sinistra sul decreto di dignità sulle nazionalizzazioni sulla sicurezza sul fico su quella roba lì è più più simile a sinistra che alla lega di salvini parliamoci chiaro no la nunez ce la vedi con salvini o ce la vedi con zingaretti io ce la vedo molto di più con zingaretti e con le accoglienze col trallallà della sinistra tipica detto questo ovviamente i renziani non ci stanno perché non vogliono che il pd diventi un pd 5 stellato chiude la lega probabilmente rischia di farlo se il tribunale del riesame accetterà un sequestro di 49 milioni fatto da un giudice di primo grado la sostanza molto semplice sapete qual è è che la lega rischia di chiudere battenti senza ancora avere una sentenza e piagnucola fa bene a piagnucolare vorrei segnalare che l'ilva è stata chiusa senza neanche una sentenza di primo grado anzi è stata chiusa è in sciopero secondo i giornali di oggi perché si sono rotti le balle anche i sindacati di quello che sta avvenendo nel tira e molla di di maio vabbè sulle autostrade è la solita è la solita solfa vi segnalo soltanto una cosa che riportano i giornali la battuta di di maio tutti belli compiaciuti invece di fare le questioni sulle agenzie di rating forse uno potrebbe notare che il ministro dello sviluppo economico che dice la seguente frase è un ministro dello sviluppo economico come possiamo dire che forse non rappresenta tutti dice mi sono letto la convenzione tra autostrade e ministero degli inter ministero dei trasporti e già su questo metodo dei miei dubbi che di maio se la sia letta mi sono letto tutta la convenzione e ho letto con attenzione che far crollare il ponte causando 43 morti non era nel contratto allora è evidente che la colpa di benetton se non altro in controllo è elevatissima e che benetton si stanno comportando malissimo ma secondo voi questo è il gergo e questa battuta sarcastica è quella che vi aspettate da un ministro ma io penso di no vabbè anche perché c'è un'altra vicenda che oggi giornali titolano non titolano ma che lo leggete su tutta la vicenda e cioè il fatto che ed è sotto traccia ma vedrete che prima o poi uscirà e sul fatto che il il ministero ci ha impiegato più di quanto avrebbe dovuto metterci secondo quello che era scritto la convenzione che ha letto di maio cioè il ministero ci ha impiegato più tempo per approvare i lavori sul famoso pilone 9 che è caduto e allora di maio si si legge bene la convenzione oltre a leggere che non c'era scritto che dovevano uccidere delle persone i benetton avrebbe letto che entro 90 giorni il ministero doveva dare un parere sui lavori straordinari il ministero l'ha dato questo parere entro 90 giorni no e allora caro di maio leggiamocela bene proprio tutta sta convenzione così siamo anche più bravi ad attaccare quelli che sono stati inadempienti invece di fare le battutine ultima cosa è l'accorto segreto tra google e mastercard beh è stupendo perché voi leggete sul corriere della sera massimo gaggi oggi che vi derubrica la cosa va bene cosetta tra l'altro l'avevano già annunciato nel blog che avrebbero fatto questo tracciamento dei dati no falso non è così leggetevi anna guaita sul messaggero non voglio dire qualcun altro buongiorno a corrado che ci sta guardando allora guardatevi per due corrati insieme tanto alessandro e tiziana porro non vale nemmeno un peli di di maio fantastica tiziana elegantissima allora sulla questione google e mastercard la cosa è molto semplice io andavo su internet vado su internet non in modalità segreta come tutti quanti noi facciamo accettando cookies insomma sulle solite questioni andiamo su internet e vediamo che ci vogliamo comprare un paio di scarpe nike poi dopo andiamo sullo store magari della nike le vediamo come le vogliamo fare come non vogliamo fare non le compriamo poi andiamo al negozio nike che peraltro una cagata perché sul negozio nike c'è milioni di cose meno che ci sono sul sul sito andiamo nel negozio nike e le compriamo la non le proviamo le compriamo la e paghiamo con la nostra carta di credito mastercard 2 miliardi di persone in euro nel mondo ce l'hanno allora questo spiega bene la guaita sul messaggero andiamo su internet vediamo un modello poi andiamo in un negozio e lo compriamo nel negozio cosa fa google dice a nike cara nike guarda che nicola porro anche se non mette nicola porro ma lo chiama xy perché non dà il mio nome e cognome ci sono mille persone duemila persone che hanno visto quel modello di nike sul mio sito e poi lo sono andate a comprare al negozio come fa a saperlo google e come lo fa a dire nike perché mastercard vende a google tutte le informazioni sugli acquisti delle singole persone e google le intreccia con quelle di mastercard una cosa un poco complicata non tanto sostanzialmente mastercard si vende le vostre informazioni a google quindi google non solo sa tutti i cazzi vostri sulle cose che fate su internet dove andate come vi geolocalizzate quello che comprate come respirate quanto tempo ci mettete a rispondere alla google assistance non solo sa tutta questa roba ma sa anche se voi uscite dal mondo del circle e andate nella vita reale fatta di mattoni e cemento e comprate con una carta di credito sa anche quello google perché quello che c'ha la carta di credito vende i suoi dati a google allora a me va tutto bene ma la volete dire questa cosa la volete comunicare esistono dei problemi la volete derubricare come massimo gaggi a una bazzecola o pensate che forse il grande futuro sarà come vengono gestiti i nostri dati io non voglio e non me ne fotte anche niente della mia privacy però dico se voi prendete i miei dati e li vendete a me qualcosa mi dovete dare o no vabbè detto questo io direi che per oggi è tutto vi appuntamento come sempre domani con la zuppa di porro che se vi piace con dividete la dice daniela google sa pier giorgio lamberti parla di american express non lo so se c'è google ed è sempre ben informato di tutto ciò che facciamo dice luca rita ciao buongiorno alica a rita che ci segue sempre tutti i giorni fedelissima a tutti quanti voi se vi piace condividete ciao